Il Romano è scoperto da un drone nel Catanzarese, occhiuto abbiamo preso la targa di questo imbecille. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS La Calabria è una regione civile, però ha anche qualche imbecille che va a piccare il fuoco nei boschi, come questo piromane che abbiamo beccato ieri, guardate il video, questo a picca il fuoco, poi vede il drone e cerca di abbatterlo con le pietre, ma da dove viene? Dalle caverne. Abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo mettere in campo. Lavorano nei boschi gli uomini di Calabria Verde, la protezione civile, i volontari della protezione civile, gli abbiamo dato dei mezzi. E però abbiamo messo in campo, come l'anno scorso, anche i droni, anzi quest'anno 30 droni, perché l'unico modo di contrastare la stupidità di chi rovina in genti ai boschi della Calabria è la deterrenza. Sappiano che li prendiamo. Non ci sono pietre utili ad abbattere i droni. Li inseguiamo, anzi, come abbiamo fatto con questo imbecille. Abbiamo preso la targa anche del suo mezzo, abbiamo la visura. Ora sto denunciando tutto ai carabinieri perché anche quest'anno sugli incendi tolleranza zero.